C'è già Calone. Buongiorno. Buongiorno Davide. Buongiorno, sì, fra i nebbia. Nella nebbia a Roma il problema non è quello che hai di fronte, è quello che hai sotto le ruote dello scooter. È proprio così. Posso testimoniare. Va bene. Entriamo in edicola, la prima di Repubblica a Congo, agguato all'Italia, ucciso l'ambasciatore con Luca Tanasio, assassinato il carabiniere Vittorio Iacovacci e l'autista Mustafa Milambo, colpiti nel villaggio verso un centro ONU, l'acquisto di una vettura blindata, ritardato dalle procedure. E poi, nelle pagine interne, l'aguato compiuto nel nord-est della Repubblica Democratica del Congo, tra le ipotesi sugli autori del blizzi, i ribelli ruandesi, un commando jihadista o un gruppo, Davide, di banditi. Sì, si trascura spesso nel nostro racconto pubblico il peso importante che hanno gli italiani all'estero, dove per italiani all'estero intendo cittadini che vanno fuori per lavorare, per produrre, per vivere, imprese, forze armate, rappresentanze diplomatiche, naturalmente. Si trascura questo. Vedete, oggi, ovviamente, su tutte le prime pagine c'è questa storia bruttissima avvenuta in Congo, però già da ieri, neanche nelle pagine interne c'è il fatto che da ieri, per l'appunto, l'Italia ha il comando, gli italiani hanno il comando delle truppe NATO in Iraq e che ieri, in coincidenza con questo passaggio, l'ambasciata statunitense in Iraq è stata attaccata da missili. Se non racconti mai, mi dice, ma questo non interessa l'opinione pubblica, ma che non lo so se non interessa, ho l'impressione che più che altro non attiri l'idea di fare i titoli dei giornali in un certo modo. Questo ruolo internazionale dell'Italia è importante, ha a che vedere anche poi con tanti altri aspetti della nostra vita civile ed economica. C'è una foto di questa brutta storia, di questo triplice omicidio in Congo. C'è la foto dell'ambasciatore Attanasio che viene riportato indietro su un camion, su un pick-up, tra le braccia dei congolesi. Quando è ancora vivo, sperano ancora di poterlo salvare, però purtroppo arriverà morto all'ospedale. E quella foto lì, la pietà di quella foto, racconta probabilmente quasi tutto quello che c'è da sapere sul perché l'ambasciatore Attanasio era appassionato di quel suo lavoro e di quella sua funzione. Ed è un peccato grave, nel doppio senso della parola, che quella foto possa essere utilizzata per negare quella che è stata la vita di Attanasio, cioè il desiderio della cooperazione e della pace in cui un posto è martoriato dalle guerre, che è martoriato dalle bande armate per la conquista delle terre e sostanzialmente dei minerali che contengono. E infine c'è un bell'articolo, come al solito, perché è molto bravo, di Domenico Quirico sulla stampa, che racconta tra le altre cose quello che lui chiama il fallimento della missione ONU. Il convoio era sotto l'egita dell'ONU, infatti il governo italiano ha chiesto spiegazioni di quello che è capitato. Il fallimento della missione ONU, che è lì da vent'anni, costa un miliardo l'anno. Si può parlare di fallimento dell'ONU? Io ho l'impressione che ci sia una diffusa idea delle Nazioni Unite che è diversa da quella della realtà. È una sede diplomatica, è un'occasione di diplomazia, di contatti, di relazioni. Non è il governo mondiale. Qual è l'alternativa al dover lamentare il fallimento dell'ONU? Rinunciamo al no? Basta, sono soldi buttati. Andiamocene tutti, andiamocene dall'Organizzazione Mondiale Sanità, andiamocene dall'ONU. Sì, e lì le cose vanno peggiorando. E gli uomini che credono nella fratellanza, nella cooperazione con Mattanasio, moriranno più dimenticati e più spesso. Non è quella la soluzione, come del resto non è anche quello di dire va tutto bene così, perché in effetti il problema di efficacia delle azioni dell'ONU esiste come se esiste. Però forse ecco, un po' di realismo e un po' di conoscenza dei fatti in una giornata come questa renderebbe meglio onore alla memoria di Tanasio e di chi con lui purtroppo ieri ha perso la vita. Mi permetto di segnalare anche un bellissimo pezzo del segretario generale dell'amministratore degli affari esteri e della cooperazione internazionale Elisabetta Belloni, in taglio alto a pagina 4 e 5 del Corriere della Sera, veramente un ricordo molto affettuoso e sentito. Pagina 15 del Corriere, prescrizione, la riforma per ora resta, ma la maggioranza non vota insieme, non si blocca la riforma Buonafede che congela la prescrizione dopo il primo grado di giudizio. Il Corriere scrive che la maggioranza, la Camera ha respinto l'emendamento di Fratelli d'Italia che prevedeva lo stop al provvedimento fino al 31 di dicembre 2023. A te. Allora, dunque, si tratta del decreto mille proroga, ce ne siamo già occupati questa mille vergogna all'italiana del decreto mille proroga. Fratelli d'Italia presenta un emendamento. Nell'emendamento Fratelli d'Italia si dice sospendiamo fino al 31 dicembre del 2023 la cancellazione della prescrizione dopo il primo grado. Io considero questo ormai, diciamo, che dovrebbe essere noto a chi ci segue quella riforma inciviltà allo Stato puro. Inciviltà allo Stato puro. Però Fratelli d'Italia dice perché non sospendiamo fino al 31 dicembre 2023? Ora, la destra ha una tradizione in Italia che è una tradizione giustizialista. Quindi, diciamo così, bello che lo si voglia sospendere. Mi chiedo perché sospenderla? Cioè, forse, se hai la maggioranza la cancelli. Comunque, Fratelli d'Italia presenta l'emendamento. La Lega, che votò a favore della incivile riforma Buonafede, altrimenti se non avesse votato a favore la Lega non sarebbe mai passata, si astiene. Forza Italia, che è stata sempre contraria a questa incivile riforma, si astiene perché, poi, bisogna tenere presente che Forza Italia continua a parlare di unità del centrodestra, che è una cosa, deve essere una di quelle cose che durante le sedute spiritiche forse riesce ancora a ritrovarla. Il Partito Democratico, che fu contrarissimo alla riforma Buonafede, vota contro l'emendamento, cioè vota a favore della riforma Buonafede. Ora, voi potete anche, diciamo così, cercare di trovare un filo di coerenza, nel comportamento delle forze politiche, però non sforzatevi troppo, perché tanto domani cambiano posizione. Ora, il tema che dovrebbero porsi è il seguente. Una cosa è la maggioranza di governo, che serve a funzionare sull'asse Palazzo Chigi, Ministro del Ministero dell'Economia, per mettere in sincrono l'uso dei fondi Next Generation con le riforme necessarie. Punto, ed è finita così, perché quella roba lì non è che può produrre chissà che cosa. Per il resto, una volta si insegnava, e in politica si praticava, che esista attività di governo e attività del Parlamento. In Parlamento non possono esistere necessariamente la riproduzione della maggioranza di governo, specie quando le maggioranze di governo sono estremamente eterogenee. Ma chi lo dice a fare in un Paese in cui ciascuno cambia posizione una volta ogni dieci giorni. Allora, Davide, un altro tema, diciamo, sempre d'attualità, è la scuola. Durante il suo discorso al Senato ne ha parlato anche il Premier Draghi, ha parlato nello specifico di riforma e anche di messa a disposizione di fondi, chiaramente, come dicevi poco fa, dal Next Generation. Il governo precedente aveva già messo a disposizione un miliardo e mezzo per questi ITS, di cui in Italia si parla ancora pochissimo, ce ne sono ancora troppo pochi e forse addirittura la maggior parte delle persone nemmeno sa esattamente di che cosa si tratta. Quindi ti cedo la parola per raccontare un po' più del ITS e di questi programmi futuri. Allora, esatto, c'è un pezzo oggi sul Corriere della Sera che cerca di affrontare questo tema. Gli istituti tecnici superiori non sono i vecchi professionali, per intenderci, cioè non sono in parallelo con la scuola media superiore, sono titoli post-scuola media superiore. Quindi in qualche modo diciamo in parallelo con l'università, anzi direi che le università farebbero bene a dare molta attenzione agli istituti tecnici superiori e a cercare di collaborare o di istituirli o di facilitarli, anche perché è un importante mercato per i giovani. Lo chiamo mercato perché è una cosa bella. Gli iscritti in Italia sono 20.000 agli istituti tecnici superiori, in Francia sono 400.000, in Germania sono un milione. Noi saremmo la seconda potenza industriale d'Europa, fatevi due conti quant'è indietro la formazione di questa roba. Ora, si sostiene oggi, ma per fare una cosa simile un fondo a un miliardo e mezzo non basta perché ci vogliono più soldi. Non è che tutto quanto è necessariamente spesa e se io ritengo che una cosa sia importante ci metto molti più quattrini, ci devo anche magari mettere un po' più di testa. Ma perché su una cosa che bisogna ancora costruirla in buona parte, in grande parte in Italia, non si comincia col piede giusto della didattica digitale, cioè di avere dei contenuti digitali che possono essere utilizzati da Bolzano a Caltanissetta senza nessunissima differenza e al tempo stesso, ovviamente essendo tecnici superiori, quindi hai bisogno di manualità, di formazione in loco, di laboratori, cominciare ad assumere le persone sulla base di una selezione, perché la selezione se la vuoi fare nei banchi devi prima farla in cattedra perché se in cattedra ci arrivi senza selezione purtroppo, ahi noi, e specialmente nel mondo universitario, è arrivata un sacco di gente che non si capisce che cosa ci stia a fare lì, come sia potuta arrivare, evidentemente poi le cose non funzionano. Allora, non è tanto la questione di dire che bisogna metterci più soldi, bisogna metterci più volontà, più testa, più desiderio di fare in fretta e si può fare perché quando noi l'Italia della ricostruzione post bellica c'aveva niente alle spalle, non è che c'era quanto investi, ma c'era investita molta passione, molta voglia di formare il giovane, molta voglia di riscattarsi e questo creò le condizioni di un enorme boom economico, civile e culturale. Quello che vedo oggi, ogni volta che sento parlare di una cosa, è che ci vuole una stanziale più soldi, ma questo non è un modo per andare avanti. Ripartiamo dalla prima del Sole 24 Ore per parlare di vaccini svolta su Europa e Industria. Draghi cambia linea, pressing per individuare siti nazionali, possibili incentivi alla riconversione. Dalle pagine interne del messaggero, il rebus profilassi, vaccini, pressing sull'Unione Europea. Draghi sente Merkel, frenata del lema su Sputnik, il ministro Giorgetti vede Farmindustria e prepara un report sull'ipotesi di produrre in Italia. Davide a te. Allora, sulla questione dei vaccini e il ritardo delle consegne di dosi, bisogna tenere presente che non è un problema di Francia, Italia, Germania e così via, era un problema di produzione. Cioè, tutte le consegne sono state ritardate e anche se ad esiste la promessa che saranno tutte recuperate nel più breve tempo possibile, diciamo così, il muro è stato quello della capacità di produrre questi vaccini. Allora, siccome noi faremo il vaccino Covid anche l'anno prossimo e probabilmente anche il successivo e poi non lo so, perché non lo sa nessuno per la verità, ma insomma, comunque, speriamo di avere sempre vaccini a disposizione, il concetto è allora dobbiamo necessariamente tutti quanti aumentare le capacità produttive. Da qui la richiesta a Fammi Industria di ragionare sulla possibilità di siti italiani. Ripeto, non è così abbiamo il vaccino fatto nostro, cioè non è il vaccino fatto come lo faceva la nonna, era semplicemente che servirà. Fra l'altro, siccome servirà a tutti, è un'occasione di business, è un'occasione di sviluppo. L'Italia, che è un paese grande esportatore, tra le cose che esporta c'è anche chimica e farmaceutica, quindi se potessimo esportare anche questo, cento volte meglio. Detto ciò, e quindi speriamo che questi approfondimenti possano essere fruttuosi, detto ciò, però ricordiamoci anche quello che si legge sul messaggero, diciamo così, a proposito di questo, a pagina 8, inutilizzate 1,2 milioni di fiale, colpa delle regioni Lumaca, domenica erano state iniettate 3,5 milioni di dosi sulle 4,7 distribuite, eccetera, eccetera. Adesso lascia perdere il nome di questa o quella regione che tutti cominciano subito a pensare di politica, maggioranza pubblica, tanto sono al governo insieme, è inutile che cercate di capire se è a centro-destra, centro-sistra, è inutile. La sostanza qual è? È che con quel numero di dosi, quello cui stiamo andando incontro in termini di dosi disponibili, è molto di più di quello che fin qui è stato disponibile dall'inizio, cioè da dicembre, e non possiamo mica arrivarci in quel modo lì. Ieri, per esempio, delle catene di grandi distribuzioni organizzate, supermercati, hanno mandato una lettera a Draghi dicendo ci sono 1.200 supermercati dove siamo pronti a dare uno spazio per le vaccinazioni. Benissimo, sicuro, facciamolo, perché è quello che ci serve, dobbiamo correre, e con il ritmo che abbiamo ottenuto fino adesso, il problema più grosso non è quante dosi sono arrivate a ieri, posto che vi ho letto i numeri di quelle che sono in frigorifero, ma quante ne arrivano domani e quanta sono capace di iniettarla nel modo più veloce possibile. Senti Davide, parlando degli insulti alla Meloni, volevo invitarti a un ragionamento appellandomi alla tua nota onestà intellettuale. In Italia, se sei di destra, se sei un liberale, insomma, vieni liquidato con grande facilità da certa ortodossia di sinistra. Tant'è che è stato sospeso il professore che aveva definito con epiteti ripetibili la figura, la dignità di Giorgia Meloni. Tre mesi senza paga, la richiesta del rettore di Siena sarà discussa dal Consiglio di Disciplina. Per Fratelli d'Italia non basta. Che idea te ne sei fatta di questa storia? Allora, mi sono fatto la seguente idea. Intanto è che se tu leggi la stampa di una certa tendenza, vuol dire che sono diversi, adesso cito tre testate, ma sono diverse fra di loro, che so, Libero, il giornale, La Verità, che rappresentano sensibilità diverse, comunque lì ci leggi sempre che due cose fondamentalmente, che se sei di destra ti possono insultare e se sei cristiano non conti nulla perché contano solo i musulmani. se leggi stampa del tipo Repubblica per certi aspetti il Corriere della Sera, la stampa adesso, ci trovi esattamente la tesi opposta. Allora uno dice sentite ma viviamo nello stesso mondo oppure no? Sì, viviamo nello stesso mondo solo che le orecchie di ciascuno sono più sensibili a determinate offese rispetto che ad altre. Tant'è che sulla questione di Giorgia Meloni in cui abbiamo ovviamente manifestato tutto il nostro solidarietà lo abbiamo fatto qui citandola assieme agli insulti che aveva ricevuto una senatrice a vita la quale diciamo così era stata accusata fra l'altro insultata dopo il vaccino cioè una cosa che non c'entrava assolutamente niente la senatrice Segre. Detto ciò il punto che trovo sui giornali che hai citato tu adesso Pierluigi è quello che il professor Gozzini è stato sospeso per tre mesi per la precisione non è stato sospeso per tre mesi è stata proposta la sospensione per tre mesi perché giustamente il senato accademico deve ancora riunirsi amen va bene così fratelli d'Italia dice vogliamo di più per la verità c'è una dichiarazione anche di Giorgio Meloni che dice io non sono vendicativa per me la cosa si chiude lì e per me no però e per me no però perché il problema non è solamente l'offesa a Giorgio Meloni e quindi giustamente diciamo le scuse che vanno presentate a chi è stato offeso quello è un conto quello è un conto l'altro conto è che uno che sbrocca e che ha quel linguaggio sta in cattedra e insegna storia e non va bene e non va bene dice ma anche Einstein girava in ciabatte e poi sosteneva di saper suonare il violino e quando lo prendeva in mano si mettevano tutti quanti a ridere esatto perché era un genio mattocchio ma non era uno sbroccato fuori di testa fazioso che dovrebbe insegnare agli altri la storia è un'altra cosa quindi la sospensione sia il primo provvedimento ripeto se io fossi studente a Siena rivolgo indietro i miei soldi pagati delle tasse universitarie perché se in cattedra ci mettete gente con questo equilibrio mentale con questa preparazione culturale io rivolgo indietro i soldi mi avete imbrogliato quindi Giorgio Meloni non c'entra più niente e che gente così non deve stare in cattedra deve insegnare grazie a Davide Giacalone naturalmente torniamo domani come di consueto con la rassegna stampa buon lavoro e buona giornata grazie mille e buona radio a tutti e andiamo con il nostro ospite che stiamo aspettando in questa mattinata con grande piacere questa mattina accogliamo Maurizio Martina Maurizio Martina già ministro dell'agricoltura da poche settimane però vice direttore generale aggiunto della FAO l'organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura Martina buongiorno bentornato su RTL 125 dopo aver lasciato la politica partiamo da qui buongiorno dobbiamo ripristinare riusciamo a sentire mi sentite? buongiorno a tutti grazie per questa occasione è una nuova pagina d'impegno per me e sono contento orgoglioso spero di poter dare una mano a questa grande organizzazione che è la FAO che in tutto il mondo lavora in particolare sullo sviluppo rurale sui temi agricoli alimentari è veramente un'occasione per me straordinaria di poter contribuire a progetti che poi concretamente servono a tante comunità e a tanti contesti ovunque nel mondo Maurizio Martina abbiamo da poco letto anche questo aggiornamento della notizia appunto dell'attacco di ieri in Congo tra l'altro è arrivato adesso un altro aggiornamento con la specifica che l'attacco sarebbe stato messo a punto da un commando di sei uomini armati di AK-47 e macete quindi ancora se possiamo rende questo dettaglio ancora più terribile la questione e tra l'altro andavano a visitare un progetto del World Food Program questi signori andavano a visitare un progetto del World Food Program che è questa grande organizzazione internazionale gemella della FAO a sede a Roma quello che un tempo si chiamava il PAM andavano a visitare in particolare se ho capito dalle ricostruzioni di queste ore un programma alimentare dedicato ai bambini in villaggi delle province sperdute del Congo ed è veramente una tragedia incredibile quella di E tra l'altro il Congo è veramente uno spaccato molto particolare del contesto africano un paese ricchissimo di materie minerali naturali purtroppo un paese drammaticamente instabile con guerre che da oltre 30 anni attraversano quelle comunità Martina a proposito la FAO da sempre sostiene che per realizzare l'obiettivo diciamo fame zero e cancellare anche la povertà bisogna investire sull'agricoltura familiare portata avanti tra l'altro nel mondo da quasi 800 milioni di persone i governi però diciamo che fanno poco per tutelare i piccoli contadini dallo strapotere delle multinazionali della chimica per esempio della grande distribuzione lei cosa suggerisce perché nel libro che lei ha scritto cibo sovrano le guerre alimentari globali al tempo del virus indica una strada io sono assolutamente convinto che noi dobbiamo difendere la biodiversità dei nostri territori e quindi lavorare in particolare per rafforzare tutta l'offerta dei piccoli e medi agricoltori che si devono organizzare di più insieme devono essere sostenuti per questo ad esempio con politiche fiscali adeguate o quello che abbiamo cercato di fare negli anni anche in Italia certamente non arrivando ancora alla meta bisogna assolutamente investire sulla biodiversità tutelarla e riconoscerne il valore non omologare le produzioni e pensare che tutto si possa fare con poche grandi aziende devo dire che su questo la FAO si sta spendendo da sempre molto ha dei programmi delle azioni degli interventi specifici che ovunque nel mondo cercano di sostenere le comunità dei produttori e ci sono anche tante esperienze positive tanto nel nuovo mondo diciamo dei contesti di sviluppo di territori anche faticosi penso all'America Latina dove ci sono esperienze molto importanti da questo punto di vista quanto nelle nostre realtà penso all'Europa e ad alcuni progetti che in particolare per l'agricoltura europea stanno molto lavorando su questo sostegno agli agricoltori piccoli e medi Martina il 2021 è un anno cruciale l'anno della presidenza italiana al G20 ma è anche evidentemente un anno segnato ci auguriamo in parte dalla pandemia che ci ha colpito a partire dal 2020 le chiedo parlando di ricadute che questa pandemia ha avuto sull'agricoltura sull'ambiente qual è la sfida maggiore da affrontare a livello globale? Sicuramente il cambiamento climatico senza alcun dubbio noi dobbiamo riconoscere che l'incrocio tra l'emergenza sanitaria e il cambiamento climatico in atto e le questioni alimentari è un grandissimo tema potrei stare ora a raccontarvi cosa sta accadendo in giro per il mondo nel rapporto tra cambiamento climatico e cambiamento dei sistemi alimentari noi in tante realtà facciamo fatica a garantire sicurezza alimentare perché quello che sta accadendo dal punto di vista ambientale sta cambiando il terreno di gioco il vero senso della parola e allora noi dobbiamo affrontare questa sfida e guardare in faccia il tema avere delle azioni coerenti l'Italia ha un'occasione importante perché è presidente del G20 quest'anno per la prima volta ci saranno appuntamenti cruciali da questo punto di vista ad esempio a fine luglio a Roma il pre-food system summit delle Nazioni Unite cercherà di affrontare proprio questi argomenti per dare delle coordinate di riferimento a un piano di lavoro a tutti i paesi della comunità internazionale cioè da quello che capiamo è un lavoro davvero profondo e molto lungo da fare e quindi non ci rimane che augurare a Maurizio Martina di continuare insomma quella che è stata già una sorta di missione durante Expo durante il suo il suo ruolo di ministro dell'agricoltura nei governi Renzi e Gentiloni veramente un augurio speciale perché qualcosa si riesca a fare e qualcosa si riesca a cambiare in questo mondo per migliorare le situazioni dobbiamo farcela dobbiamo farcela grazie a voi che ogni tanto avete la cortesia di chiamarmi e soprattutto di parlare di questi argomenti che sono argomenti che sono assolutamente convinto interessano milioni di persone anche in Italia non c'è dubbio grazie a Maurizio Martina per essere stato con noi buon lavoro sentirci molto presto e diamole buona giornata Don Antonio Mazzi Don Antonio ci sei? Ciao benedetti ciao 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 e per me l'amicizia rimane ancora il più grande antivirus l'amicizia vero? l'antivirus rimane ancora il più grande antivirus molto bene grazie ci siamo ci siamo grazie Don Antonio si è autoliquidato ciao ciao per aumentare la disponibilità di vaccini si sta pensando di sfruttare gli stabilimenti italiani che creano l'antinfluenzale giovedì il ministro per lo sviluppo economico Giorgetti incontrerà Massimo Scarabozzi che è il presidente di Farmindustria nelle scorse settimane sono stati individuati due impianti ma ci sono ancora problemi tecnici da superare anche di questo vogliamo parlare con Roberta Villa giornalista scientifica spesso nostra ospite Villa buona giornata benvenuta a No Stop News buongiorno a voi a tutti coloro che ci stanno ascoltando buongiorno Villa allora tra poco veniamo alla strettissima attualità io con lei vorrei fare un attimo un passo indietro vorrei chiederle che cosa rischia un cittadino che non si vaccina perché noi ieri abbiamo saputo qui ne abbiamo parlato in No Stop News abbiamo capito questa posizione dell'Inail che sembra intenzionata a non prevedere il risarcimento da infortunio sul lavoro per chi rifiuta di vaccinarsi partiamo da qui allora da quello che leggevo penso che comunque dovrà risarcire l'Inail perché comunque non essendoci un obbligo di vaccinazione nemmeno per le categorie più a rischio non credo che possa evitare di risarcire le persone che si sono ammalate pur avendo rifiutato questa protezione questo vale naturalmente per chi svolge professioni a rischio di malattia naturalmente non per gli altri che comunque non hanno un risarcimento dall'Inail è l'infortunio sul lavoro è considerato infortunio sul lavoro l'amalarsi in ospedale quindi chi ha facoltà di prendere un bicchiere d'acqua se ne ha bisogno l'attendiamo l'attendiamo ho parlato con nessuno prima che con voi non ho covid quindi hai iniziato appunto a usare la voce in questo momento comprendiamo bene qual è la tematica comunque se ha bisogno prenda un bicchiere d'acqua e torni da noi cerchiamo di andare avanti no quindi quello che volevo dire è che questa tematica riguarda chi lavora in ospedale quindi chi ha un rischio sul lavoro di ammalarsi è stata sollevata fin dall'inizio della pandemia perché si diceva ma siamo sicuri che le persone poi ci sono ammalate effettivamente in ospedale non a casa non in altre circostanze poi in realtà questo infortunio viene generalmente riconosciuto e probabilmente sarà riconosciuto anche in questo caso proprio perché la vaccinazione non è obbligatoria nemmeno per gli operatori sanitari ecco collegato a questo tema ce n'è un altro molto dibattuto che è quello del cosiddetto patentino chiamiamolo in questo modo patentino vaccinale si è pensato anche alla versione digitale per qualcuno è una soluzione per qualcuno una scorciatoia c'è chi lo ama c'è chi non ne vuole sentire parlare in realtà perché è legato all'obbligatorietà immagino no non è legato all'obbligatorietà è legato alla disponibilità io non posso essere discriminata perché non mi danno il vaccino io mi vaccinerei oggi stesso se non mi offrono il vaccino e non c'è disponibilità di vaccino io non posso essere discriminato anche perché ricordiamo che stanno uscendo degli studi rassicuranti ma finora in Italia abbiamo gestito le strategie pensando che il vaccino protegga gli altri in realtà fino ad oggi sappiamo che protegge chi è stato vaccinato non chi ha intorno quindi la logica non è questa la logica è di vaccinarsi per proteggere prima di tutto se stessi quindi il patentino ha un significato relativo e poi ripeto crea una grande discriminazione continuiamo a parlare di obbligo dimenticandoci che ci sono milioni e milioni di italiani che vorrebbero essere vaccinati e che non possono accedere al vaccino io credo che non si debba parlare di obbligo fino a quando non arriveremo ad aver vaccinato tutti coloro che vogliono essere vaccinati senta Villa lo dicevamo in apertura giovedì ci sarà l'incontro tra il governo tra il ministro per lo sviluppo economico Giorgetti e Farmindustria c'è sul tavolo una nuova ipotesi per produrre i vaccini contro il covid anche in Italia ecco le aziende farmaceutiche l'hanno detto chiaramente ci vorranno qualora questa cosa andasse in porto un minimo di 4 mesi e un massimo di 6-7 quindi stiamo parlando se la cosa dovesse andare in porto la produzione partirebbe diciamo così tra due mesi e se ne vedrebbe qualcuno forse a ottobre secondo lei è una strada da percorrere percorribile soprattutto? non conosco i dettagli quindi non vorrei esprimere delle previsioni che poi si rivelassero sbagliate però quello che so con certezza è che tante volte nel discorso pubblico si semplifica molto la cosa Scacabarozzi lo ha ribadito cioè convertire uno stabilimento che fa vaccini influenzali quindi che ha tutti degli impianti con le uova per coltivare i virus per produrre questi tipi di vaccini che sono completamente diversi sono un'altra cosa non è così semplice anche perché io dico per fortuna in Europa abbiamo una serie di regole molto rigorose riguardo agli impianti di produzione dei vaccini non è un farmaco in cui prendi un'azienda metti delle macchine ho sentito parlare di macchine che producono i vaccini non è così semplice soprattutto con questi vaccini nuovi che richiedono anche un know-how molto particolare per cui le stesse aziende che lo hanno concepito che li hanno concepiti si stanno trovando in difficoltà perché ci sono dei lotti che non rispondono agli standard ed è per questo anche oltre al problema delle carenze di materie prime che riguarderebbe anche una produzione italiana il problema poi di fornire la quantità di dosi richieste quindi non pensiamo che questa sia una scorciatoia potrebbe essere utile ma sicuramente non per affrontare questo problema ma per affrontare l'ipotesi che ci si debba vaccinare tutti gli anni Valentina Villa giornalista scientifica Roberta grazie Roberta la chiedo scusa Roberta è un lapsus ci ha bocciato dicevo il patentino vaccinale quello che si chiama così perché giustamente dice insomma prima in Italia servono le dosi e poi naturalmente quando ci saranno le dosi può essere però una strada come in Israele questo pass che hanno creato per allentare il lockdown ad esempio se vado in palestra devo far vedere di essere vaccinato quando ci saranno le dosi è congrue per potersi vaccinare tutti lo scusi ma lui è un appassionato di palestra no ma io capisco la passione per la palestra capisco meno la passione per l'obbligo nel senso che questa 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 misura in sé in realtà è come voler dire chi non è vaccinato non può entrare ecco credo che non so non sia soprattutto io parlarne inasprisce chi ha delle paure ecco questo è il punto in questo momento secondo me dovremmo dare dei messaggi positivi incoraggianti io stessa quando qualche mese fa mi chiedevano ma tu ti vaccineresti io dicevo voglio vedere che vaccini arrivano perché devo dire che mi vaccino alla cieca con un vaccino che non so neanche se arriverà oggi abbiamo dei vaccini di un'efficacia di una sicurezza assolutamente straordinari che sono stati dati a più di 100 milioni di persone nel mondo con delle reazioni irrisorie molto ridotte e oggi io mi raccontere oggi risponderebbe sì Roberta Villa Roberta Villa decisamente sì grazie per essere stata con noi torniamo a sentirci presto arrivederci torniamo sull'assassinio dell'ambasciatore italiano ieri in Congo Luca Attanasio e del carabiniere Vittorio Iacovacci che era con lui e insieme anche del loro autista congolese lo vogliamo vogliamo approfondire il tema con Andrea Margelletti che è presidente del centro studi internazionali che è tornato con noi bentornato davvero e buona giornata grazie buona giornata a voi grazie per l'ospitalità e naturalmente un saluto ai vostri ascoltatori grazie Margelletti allora diciamoci la verità con grande facilità ieri si è liquidata la questione come se fosse un attentato diciamo così all'Italia in realtà il teatro che ha ospitato questa tragedia è molto complesso e articolato c'è il panorama insurrezionale nel Congo Meridionale le ricchezze naturali e minerali del territorio e ovviamente una parte anche dell'esercito che in quella zona Margelletti si fa un po' gli affari suoi o comunque a connivenze con la criminalità vogliamo spiegare bene a chi ci sta seguendo qual è il teatro in cui questa tragedia si è svolta guardi dottore con la sua solita precisione lei ha centrato il punto io sono totalmente in disaccordo con chi la chiude velocemente la realtà però è assolutamente confusa stiamo parlando di un'area del Congo dove ci sono decine decine di milizie ogni villaggio ha praticamente la sua briganti che si alleano i gianisti e giadisti che vogliono fare i soldi facendo i briganti forse le parti dell'esercito che magari non ricevono stipendi da mesi e quindi per potersi mantenere vanno a taglieggiare le realtà locali quindi grande confusione sotto il sole questo è il punto determinante senta Marcelletti ma lei che impressione ha avuto della dinamica di questo attacco guardi lo dico per esperienza di quelle aree non naturalmente precisamente di quella ma insomma in alcune parti del mondo le dinamiche non sono particolarmente diverse i civili i bianchi gli appartenenti alle organizzazioni umanitarie sono magneti per sono dei per briganti sono dei bancomat ambulanti rendiamoci conto ad esempio che quello che per noi è una jeep mezza scassata per altre persone quella stessa jeep scassata rappresenta mesi e mesi di vita e di denaro quindi io continuo a propendere che la mia sensazione per quel nulla che vale sia di una commistione tra voglia di non ingerenza da parte di stranieri e tentativo contestualmente di capitalizzare la presenza degli stranieri in quell'area rappendoli facendoci dei soldi quindi probabilmente Andrea Margelletti non voleva essere un omicidio voleva essere un rapimento finito male perché altrimenti che cosa portano a casa se non se creano soltanto delle vittime e non dei rapiti che poi la gente vuole andare a liberare sposo completamente le sue la sua tesi anche perché altrimenti non ti porti la gente via dentro dentro il bus per qualche metro ma la uccidi direttamente lì sul posto poi perché ucciderli quando ci puoi ricavare qualcosa Senta Margelletti io vorrei accendere l'attenzione anche sul carabiniere nel senso che l'arma dei carabinieri è presente in molte zone di guerra contribuendo non poco non solo al ripristino della civiltà ma anche alla costruzione delle strade al fatto di poter come dire contribuire alla sicurezza dei bambini che vanno nelle scuole grazie anche alle organizzazioni non governative vogliamo spendere perché magari le luci si accendono solamente in casi come questi ma l'arma dei carabinieri fa un lavoro egreggio per la pace nel mondo decisamente io per una volta non voglio parlare dei miei amati uomini e donne della seconda brigata mobile quella a quale apparteneva il nostro caduto che sono la componente più muscolare dell'arbre dei carabinieri ma vi voglio parlare di due realtà il COESPO il centro di eccellenza per forze di polizia specializzate dove si insegna a forze di tutto il mondo come trattare per esempio i cittadini ad esempio il fatto che le forze di polizia quando fermano i cittadini non li devono tirare fuori dalla macchina rapinare e poi lasciarli andare che per noi è una cosa normale ma non è sempre così in tutto il mondo e un'altra componente i baschi blu della cultura cioè una componente dell'arma dei carabinieri che lavora al ripristino del patrimonio culturale di alcuni paesi perché naturalmente nelle situazioni di crisi di musei e le opere d'arte vengono immediatamente depredate e entrano nel circuito molto occidentale dei mercati clandestini però la realtà dei fatti che è una nazione che deve rimettersi in piedi senza storia lo fa con infinita maggiore difficoltà e questo è un altro dei tanti esempi in cui i carabinieri danno apporto per non parlare ad esempio delle operazioni nell'Africa orientale in Kenya ad esempio dove si insegna ai ranger locali che il bracconaggio va a distruggere prima di tutto non soltanto l'ecosistema ma anche la loro economia locale e quindi da combattere il bracconaggio Andrea Margelletti presidente del centro studi internazionali la sua competenza ma anche la sua delicatezza quella di cui ha dato prova quest'ultima domanda rispondendo a Pierluigi sono valori preziosi per commentare fatti come questi a presto e grazie grazie a voi a presto e vogliamo occuparci in questo spazio anche un po' di credito alle imprese alle micro imprese sono spesso ditte individuali che sempre più necessitano di prestiti o supporti anche in termini di liquidità proprio per far fronte a questo periodo un po' complesso e l'osservatorio credimi ha rilevato come queste ditte individuali abbiano registrato un calo di fatturato molto elevato un calo medio del 24% rispetto all'anno 2019 ovviamente parliamo del 2020 e quindi vogliamo un po' affrontare questi temi approfondire questi dati con il SEO di credimi che ci ha raggiunti in diretta Ignazio Rocco buongiorno e grazie per essere con noi buongiorno 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 Rocco allora dalla vostra indagine risulta che molte di queste imprese vogliono investire per rinnovarsi e superare ovviamente la crisi il 72% prevede di richiedere un finanziamento hanno però necessità di finanziamenti ovviamente pensati apposta per loro veloci semplici da richiedere che cosa mettete in campo? noi mettiamo in campo un finanziamento che si chiede in un minuto con la sola partita IVA e una dichiarazione fiscale si chiede in un minuto con la partita IVA e la dichiarazione fiscale a qualsiasi ora del giorno e della notte quindi in digitale? stiamo parlando ovviamente di online totalmente sì si richiede via web con la partita IVA e una dichiarazione fiscale a qualsiasi ora del giorno e della notte soprattutto si ha una risposta sempre in tre giorni lavorativi e si ha anche a disposizione un servizio clienti che in qualsiasi momento lo si chiami conosce tutto dello stato di avanzamento di quel finanziamento tutti gli altri documenti di tutto quello che serve per ottenere la garanzia del fondo centrale e tutti gli altri adempimenti sono cose che facciamo noi siccome sono cose che si possono fare utilizzando la tecnologia in modo quasi automatico evitiamo di chiederle alla piccola imprenditrice o al piccolo imprenditore si possono avere da 10.000 fino a 1.250.000 euro in questa maniera non ci sono mai garanzie personali non diciamo sempre di sì questo ci tengo a dirlo perché utilizziamo soldi di risparmiatori quindi possiamo dire in certi casi di sì e in certi casi di no ma diciamo sempre qualcosa in tre giorni molto chiaro dottor Rocco un aspetto l'ha già evidenziato lei quindi la facilità di accesso a questi fondi e per il resto quando un imprenditore deve chiedere un finanziamento insomma quali sono le priorità gli aspetti principali che valuta dunque noi vediamo che a parte la semplicità e la velocità per le imprenditrici gli imprenditori è molto importante avere a disposizione qualcuno che sappia a che punto è la situazione e possa prendere le decisioni quindi alla fine la tecnologia che serve ad accelerare a semplificare tutto quanto non elimina poi il ruolo di un contatto diretto con l'imprenditore che però deve essere qualcuno che conosce tutta la situazione che conosce tutti i dati che conosce tutti i dati sulla decisione su quell'azienda che è in grado effettivamente di aiutare poi ci sono molte cose che non riguardano per niente il credito anzi le piccole imprese con cui parliamo ci dicono che il credito è uno dei problemi ma spesso non è quello quello principale in questo momento e cioè quali sarebbero gli aspetti appunto significativi? beh il modo in cui le piccole imprese riuscivano a vendere un anno fa è un po' cambiato per sempre i negozi sono chiusi certe attività sono chiuse ovviamente e in parte tutti speriamo che riapriranno presto però è anche vero che il modo poi dei clienti di comprare non è detto che torni a quello di prima quindi le imprese anche piccolissime questo lo hanno capito benissimo e sentono la necessità di imparare a contattare i clienti in modo diverso a fare e-commerce imparare a farsi conoscere anche con canali diversi dal loro punto di vendita e per fare tutte queste cose qui sentono il bisogno sì di soldi ma anche molto di competenze di formazione formazione professionisti che possano supportarle in questo passaggio entrare su iniziare a vendere su Alibaba o su Amazon non è una cosa che si fa dall'oggi al domani richiede di spendere soldi ma anche di farlo bene noi sorprendentemente abbiamo trovato un'enorme attenzione a questo a questo tipo di problemi proprio nelle imprese piccole e piccolissime ancora più che in quelle medie è stato veramente chiarissimo la ringraziamo per aver accettato il nostro invito quindi salutiamo il SEO di Credimi Ignazio Rocco ospite questa mattina di Non Stop News buona giornata a lei i suoi collaboratori buon lavoro buona giornata a voi grazie grazie naturalmente sono moltissime le persone appunto queste piccole micro imprese che stanno vivendo un momento complicato dobbiamo dire la verità allora domenica da Mara Veniera domenica in c'è stata un'intensa e sentita intervista al direttore del il giornale Alessandro Sallusti che qualche giorno fa si è sottoposto ad un check up come di consueto in ospedale si è sottoposto anche a due tamponi il primo un antigenico rapido era negativo il secondo molecolare era invece positivo fortunatamente sta bene è asintomatico ma ha detto ha fatto un ragionamento domenica a tratti anche commovente perché ha parlato dell'estrema vulnerabilità che anche un uomo come lui ha dovuto scoprire in questo periodo e lo hanno scoperto molto italiani questo aspetto della vulnerabilità vorrei tornarci sopra con il direttore Sallusti nel salutarlo perché è una concessione molto intima della sua personalità direttore buongiorno come stai innanzitutto buongiorno tutto bene tutto bene cioè tutto bene sì no io sto bene ho fatto ieri il primo tampone d'uscita spero di spero che sia positivo e così insomma sia negativo ovviamente così si riparte qual è la lezione che può dare la vulnerabilità che viene scoperta ma che insomma è una sensazione a cui non siamo non siamo abituati a essere vulnerabili no di solito chi pieti chi è all'interno insomma ci sentiamo forti o pensiamo di essere forti insomma non ci facciamo caso che invece da un momento all'altro tu puoi essere anche chiunque ma arriva questa 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 roba e non puoi fare nulla cioè non c'è neanche da dire che te la vai a cercare perché quello secondo me nella maggior parte dei casi sono un po' delle fesserie nel senso io non ho 40 anni che non faccio la movita non ho particolari relazioni sociali sono stato abbastanza eppure che capita quindi è imparabile quando arriva direttore Sallussi lei ora evidentemente si trova a casa in isolamento e noi sappiamo che c'è qualcosa che vorrebbe tanto fare in questo periodo c'è un incontro che lei aspettava ormai da giorni e che il covid insomma l'ha costretta a posticipare sì è un incontro che aspettavo da una vita per la verità che è l'incontro con mio nipotino con mio nipotino nel senso che mi nascesse un nipotino che mio figlio si decide di essere un nipotino maschio e ovviamente le coincidenze della vita le strane coincidenze della vita hanno fatto sì che questa nascita attesa per anni sia avvenuta durante la mia positività e quindi io ancora oggi non ho ne visto ne ho potuto abbracciare in video sì però Sallusti almeno in un video sì 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 per carità ma che pensare che il video subredisca a un'emozione che hai teso per una vita non è esattamente non è esattamente io sono poco virtuale non so come dire comprendiamo senta direttore oggi lei non la manda a dire come il suo stile l'apertura che fa del giornale è chiarissima perché deve dimettersi Domenico Arcuri il titolo è i segreti di Arcuri ecco lo spiega anche gli ascoltatori di RTL 125 perché deve dimettersi perché a noi ci sono delle cose per le quali uno può anche cercare di capire perché è accaduto accaduto poi ci sono delle cose che invece il problema non è capire perché 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 questa cosa va male il problema è farlo andare bene quindi è un po' di tempo che a noi ci spiegano perché non ci sono i vaccini perché fanno fatica vaccinarci perché ma questi non sono problemi nostri noi abbiamo diritto a essere vaccinati il più in fretta possibile e ce l'hanno fatta gli israeliani ce l'hanno fatta gli inglesi ce l'hanno stanno facendo gli americani a me non interessa se il cattivo è l'Europa la casa farmaceutica Pinco Pallino a me interessa che che tutti gli italiani siano vaccinati il prima possibile se a cui non è capace invece di di farlo e ci spiega perché non è tutto va rilento è un problema di accurso troviamo uno più bravo quando una squadra continua a perdere si cambia l'allenatore che non può dire che l'allenatore è un disgraziato può dire che in quel momento evidentemente non ha capito assoluto mi sembra una posizione molto chiara la sua Alessandro Sallusti direttore del giornale tanti auguri davvero in bocca al lupo grazie e in bocca al lupo anche per quell'abbraccio che le auguriamo di fare presto col suo nipote come si chiama così Federico Federico un abbraccio anche da parte nostra a presto direttore buongiorno grazie buona giornata a domani No Stop News a cura della redazione giornalistica di RTL cento due cinque direttore responsabile Luigi Tornari